Chi scrive le canzoni? Io, Diego e Giacomo Io, Enrico e Giacomo Pippo ci provola, ci sta provando Questa... Non so, non so chi scrive le canzoni Ci vengono date, ci vengono date Non lo conosco Allora, questo non è un villaggio turistico Quindi ti prego di rispondere in maniera seria Per il rispetto di chi hai anche in fianco Chi produce i pezzi? Carlo Bosco, nonché Lenny Fosco Lenny da Lenny Clarence Una famosa foto che non si trova a giro E Fosco perché lo chiamano Fosco Cibo preferito? Pizza Enrico Pasta, pizza Deve lanciare la parmigiana e lo zenzio Per me è la pizza Anzi, la cipolla Stop al tempo Credo che tu non faccia ridere E ti prego comunque di stare calmo Perché torno a dirti che sei in una trasmissione televisiva Ciao Nici Grazie a tutti